Sono iniziati gli interventi per il ripascimento morbido a Roseto degli Abruzzi. Come prima fase i lavori sono partiti sulla spiaggia a sud del Pontile. Una volta terminati a sud gli interventi si sposteranno a Roseto Nord nel tratto che va da Lido Sahara, Lido Borabora e infine a Colonia Spiaggia nel tratto che va dal camping Nino fino a Via Bozzino. L'importo dei lavori è di circa 110.000 euro, fondi che sono avanzati dallo scorso anno quando ci fu un ritardo e l'amministrazione, d'accordo con i bagnatori, decisi di rinviare i lavori a questa stagione. Sono iniziati i lavori, in effetti già nei giorni scorsi la ditta giudicataria della gara aveva portato tutto il materiale e i mezzi per poter iniziare. Non appena le condizioni marine lo hanno permesso, ieri sono iniziati ufficialmente i lavori per il ripascimento, un segnale forte verso una categoria che ha bisogno anche di punti fermi e di certezze, vista anche la situazione che in queste tre zone di Roseto c'è già da tempo, quindi tratti di spiaggia completamente cancellati, diamo un segnale per fare in modo che gli operatori possano lavorare in serenità per questa stagione estiva che poi deve essere la stagione del rilancio e della ripartenza. Io credo che per domenica avremo finito la parte rosetana, quindi sia nella parte sud che nella parte nord. Da lunedì ci sposteremo su Colonia Spiaggia che è poi la zona più colpita, chiuderemo i lavori nel giro di 3-4 giorni, quindi per metà della prossima settimana i lavori di ripascimento saranno finiti, così potranno gli operatori montare gli ombrelloni e tutte le strutture necessarie per poter accogliere i turisti e dare il via ufficialmente a questa stagione estiva che si preannuncia ricca di presenza ma anche di eventi. Lavori che però rischiano di essere bloccati, visto che il Coggevo Abruzzo ha presentato una diffida al servizio di gestione rifiuti e opere marittime, intimando a non procedere con gli interventi di ripascimento sull'Arenile di Roseto. Io ho avuto notizia di questa diffida che è stata fatta da parte del Coggevo, noi abbiamo al momento tutte le autorizzazioni necessarie, non abbiamo ricevuto notifica alcuna né ci è stato comunicato diversamente da parte degli organi che ci hanno precedentemente autorizzati, quindi io al momento vado avanti. Poi se ci saranno fatti nuovi nei prossimi giorni valuteremo il da farsi.